Tutti gli anni è così, arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. Giornata baciata dal sole, quella di ieri a Bagnaria, dove centinaia di persone sono a corse per visitare il mercatino di Natale, tra arte e tradizioni enogastronomiche. Noi siamo un'azienda agricola Oranami, è un'azienda biologica. Produciamo formaggio di latte vaccino, di capra e di pecora. La nostra specialità è il pizzocorno di latte vaccino, un formaggio delicato e fresco, spalmabile. È il formaggio che è stato comprato di più, anche dall'aspetto che attira le persone. Produciamo anche prodotti da forno, in particolare prodotti con farina integrale, di farro, kamut, anche per fornire i prodotti a persone ciliache. E produciamo anche prodotti come torte, salate, dolci e biscotti. Io sono la bottega che vale, ho un negozio di alimentare i prodotti tipici locali a Bagnaria. E oggi partecipiamo con i ragazzi della Proloquo a questo mercatino. I nostri prodotti locali sono, vabbè, i panettoni, i biscotti fatti dai nostri panettieri, il salame di Varsi, assolutamente, i formaggi tipici, torte e quant'altro, però tutto locale. Questi panettoni sono già anche confezionati, giusto, natalizi, per fare qualche pensierino per Natale. È stata una bella giornata e c'è tanta gente, siamo tutti contenti. Soprattutto per i ragazzi, per la popolazione che si sono impegnati oggi a fare questa manifestazione. Soprattutto per i ragazzi, per la popolazione che si sono impegnati oggi a fare questa manifestazione.